Una mobilitazione forte che vuole coinvolgere cittadini e sindaci di tutto il territorio provinciale per dire insieme basta al depaoperamento inarrestabile dell'ospedale veneziale e dei servizi sanitari pubblici. È quella che sta promuovendo il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, che ha di certo messo la sanità in cima all'agenda amministrativa, visti i continui disagi e il malessere che utenti e popolazione dimostrano accedendo all'ospedale cittadino e considerate le condizioni in cui lavorano i pochi medici operativi. Mercoledì 6 luglio, dalle ore 18 al Parco Stazione, il sindaco di Isernia presiderà un'assemblea pubblica per discutere insieme alla cittadinanza dei gravi problemi che interessano la sanità regionale e che stanno mettendo a rischio il diritto alla salute. All'appuntamento sono stati invitati i sindaci dei comuni della provincia, i consiglieri regionali, i parlamentari, le associazioni. I temi e le proposte che emergeranno dall'assemblea saranno oggetto di uno specifico consiglio comunale, ha spiegato Castrataro, che avrà luogo in forma di adunanza aperta da tenersi a distanza di pochi giorni. Un incontro che arriva dopo un'altra presa di posizione forte da parte dell'amministrazione comunale, sempre in favore della sanità pubblica e della formazione universitaria. Il sindaco e l'intera giunta hanno lanciato accuse all'indirizzo del governatore Toma, reo di non essersi impegnato nel prorogare la convenzione tra Regione Asrem e la Sapienza di Roma necessaria a confermare la sede di Isernia per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche dell'Ateneo Capitolino, corso allocato nel Palazzo della Curia Vescovile in Via Mazzini. Ed è proprio davanti all'ex sede Unimol che il sindaco Castrataro ha spiegato come il decreto provvisorio delle assegnazioni dei posti non prevede Isernia. Registriamo quindi le parole del Presidente Toma che quando è venuto qui mesi fa aveva promesso che Isernia non avrebbe mai perso il corso di laurea in Infermieristica, ora sembrerebbe invece che lo stia per perdere. Questo potrebbe essere un danno per la città e per l'intero territorio, soprattutto considerando il fatto che sono ben più di 200 persone che nei tre anni frequentano il corso. Non è più tempo di parole, è tempo di fatti. Se c'è la possibilità nelle prossime ore, nei prossimi giorni di risolvere questo problema saremmo d'accordo nel fare più pressione possibile alla Regione e la Regione all'Università della Sapienza per trovare una convenzione e definirla in modo che nei prossimi anni non ci sia più questo problema. Noi come Comune abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo anche detto che se fosse stato necessario disporre di risorse ulteriori le avremmo messe, non è un problema. Ora ci deve essere la volontà politica di risolvere il problema. Io spero che nei prossimi giorni venga risolto, se non sarà risolto il Presidente della Regione di Tomasi deve assumere tutte le responsabilità per un grave danno socio-economico e culturale per la città di Serna e per l'intero Molise. è possibile affinché questo corso di laurea rimanga qui a di Serna. Aspettiamo le prossime ore, vediamo quello che...